Ayo, cazzuti, giochiamola tranquilla francesi Sì, sì Una bella cosiddetta Sono siamo i lives Ayo, fin da subito Ayo, usiamo la testa Hanno un attaccante relativamente alto Eccolo Ok, dai Brutto Ayo E Daniel Buongiorno Guardiamo la palla Poglio Maravala, Daniel Buona, buona, buona Buona Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' ancora tutta la partita davanti, dai. Ma teniamo, va bene, va bene. Buona, buona. Forza ragazzi dai, diciamo troppo. Grazie a tutti. Involviamo. Buona fede, vai che ce la prendiamo, vai che ce la prendiamo. Buona. Buona. Poi dietro. Iniziamolo a giocare, vai dai. Iniziamolo. 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 Iniziamo. Iniziamolo. 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 eh, io più che la solo fa un cambio gioco però effettivamente il tuo ok la coppia pure al cronometro meglio 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 dai l'abbiamo regalata tutto quanto hai avversato tutti quanti, tutti i passati li abbiamo regalato 65 noi abbiamo regalato tutti i palloni agli avversari quindi stiamo andando proprio in pappa in confusione dobbiamo mantenere un attimo la calma eh, però questo implica che i due mediani poi devono restare comunque un pochettino più bassi e non spingere tanto eh, vai, mettiamo a Bobo e tu e Fede dietro dai cerchiamo magari a turno magari tu sei un po' più propenso e Fede resta un po' più fisso e diamo un pochettino più appoggio ok, corro lato a te vado ok, ok dai vai vai, kegoi andiamo a cercare questa palla dai dai carichiamola dietro perché noi vamo l'uno contro non riusciamo che non riusciamo a passare guardiamo sempre a bobo sulla tre quarti ai cerchiamo di giocarla bassa con la x semplice non abbiamo paura di o di giocarla ci faccio a prendere dall'ansia che scotta il pallone oh dai no ma non arrivano passaggi no coro ma stiamo è un problema pure di host quindi siamo molto più lenti si è d'accordo e pure i passaggi non vengono bene quindi nella partita no quindi dobbiamo l'abbiamo Grazie. Oh, non l'avevo visto quell'altro. Non l'avevo visto proprio. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh. 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 io non ho avuto un bravo controllato no no ma mi credi allora io a parte a parte a parte che io a me non laggavo io però a me il giocatore pareva che era avuto 2 metri e 5 per 120 kg il mio giocatore no a me è malissimo cioè nel senso non riuscivo proprio a giocare ma la parola a me nemmeno per controllarla la parola la tenivano loro a noi passaggi a noi non ha non ha agganciato un compagno a noi una parola non ha agganciato un compagno non ho dubbio faccio io con una verifica ma giusto per ma io non ho laggato però tenevo il bot che era a montagna noi non lasciando sta il secondo volo purtroppo però ce lo siamo fatti il primo però sempre per motivi sì 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 no perché dico se no però dico perciò dico analizzando pure la partita in sé per sé cioè questi qua si giocavano di più perché riuscivano a prendere palla giocare più fluidi però a livello di occasioni ecco non è che hanno fatto chissà che cosa hanno preso un palo che proprio che noi eravamo sempre immobili che non riusciamo arrivare sul pallone che noi penso che sarà la cosa opposta noi comunque l'avremmo fatto molto molto peggio poi vabbè naturalmente quando sarà vediamo il l'avremmo vaga 72 megas quindi allora aspetta sto caricando sto caricando ho visto qualcosa di visione mi? Grazie. Grazie. Non mi aiutare, questa qua è la prima di riscaldamento. Allora, ottimo. Allora, esterni archi. Va bene, dai. Allora, è vero. Allora. 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 Oh. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bella dai, continuiamo. Grazie a tutti. 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 io forse cagnassimo questi maio sai non faccio che le campeone già e capitano lo mettiamo pure a prova andiamo andiamo mettiamo anche già l'invito per per dime campeone è l'unico capitano è l'unico capitano stiamo definendo un attimo una cosa però viva l'omimi Sto facendo io crash due spazi mini però un attimo solo lo sto creando Mimmo che metto come divisa? No, io perchè vogliono decidere a me Non c'è più un cagliari Ma io, veramente state facendo? Ma Fiorendino, Io, Vlaovic Ovvero uno, ovvero uno, sì sicuramente no, ovvero uno Ma io Mi piace del falsino Ma 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 mi ha già mettere, ha già mettere tutte cose, in caso pranomo, pallone Ma io è aperto è aperto club pubblico non dovete E non mi dine a me, venga tutto quanto, sono la prostituta della fede invitato, Gigi invitato Che ho già visto clash Solo gen membro Mimmo Daniel gen membro Tyran gen membro Chica Angelo gen membro Peonno non c'è Dom 94 invito Gidiamo Gidiamo Vi da più ragazzi a chi manca l'invito siete tutti dentro dentro no allora questi coschi sono i black phoenix i black phoenix no no noi trasferta che in casa solo con gli old stars sono tutti quanti i primi in classifico ma perché va meglio la vallina a questa terza maglia senza aver la vallina a v di bellino o bocchetto voglio pratica mimetizziamo non ci facciamo vedere e piastra il Ciao. 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 Grazie. Grazie. Abbiamo lato blu. Ok. Buona coro. Grazie. 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 Facciamone uno. Pareggiamola. Prima che finisce il tempo, dai... Una parte senza finire il tempo, dai. Grazie a tutti. Allora, incistiamo, 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 incistiamo. Ok, se da destra. Ok. 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 altissimi questo io buona 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 dai grazie per la visione da te va io ci stiamo dai Allarghiamo aiuta forse più coraggiosi dai mi piace la penere stavano nostri termi larghi dai voglio forza 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 Allarghiamo eeeh sono saliti Allarghiamo bella coro ma non è finita dai ma che cuore Allarghiamo 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 Grazie a tutti. 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 Eccomi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 dai raga vaiù cacciamo le palle vaiù ok va bene dai se la prendiamo la prendiamo la prendiamo la prendiamo Grazie. Buon Angelo. Buon Angelo. Buon Angelo. Buon Angelo. Buon Angelo. puciamoci ok ok no vabbè che l'ha stoppata ok 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 eh pensavo di averla persa più che altro un contrasto guarda dico la vita ok non c'è da me ok 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 mettiamola dentro proviamoci a metterla dentro e che è finita uno solo dimmi no non lo so se lui riusciva no 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 bene no ragazzarola no 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 cazzo di rinvi che ci fanno a noi si suona da super e basso mmm no 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 Grazie a tutti. Un po' che l'altro fa sono andato pure io a prenderla e non mi ha agganciato. X è il capitano. Non mi ha agganciato. Va va. Non mi ha agganciato. Non mi ha agganciato. Gigi. Non mi ha agganciato. 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 ma di broia Grazie a tutti. 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 Buonassimo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.